Allora buongiorno, grazie a Professor Samusacchio dell'invito, sempre in queste presentazioni si esagera, non è vero quello che, non penso di essere così bravo ma non è questo il punto importante, ringrazio l'invito, questo è un tema che cercherò di affrontare, molto impegnativo ma io direi centrale, un po' per capire il contributo della statistica che viene spesso considerata come ancillare nella ricerca quantitativa, nella ricerca e nello studio di popolazioni, a mio parere perché non esiste una cultura del pensiero scientifico, vorrei ricordare che qui a Padova c'è la cattedra, copia, di Galileo Galilei, fondatore della metodologia della ricerca scientifica e recentemente anche in un articolo di Garattini sul Sole 24 Ore diceva come un problema in Italia è che non si insegna la scienza, ma non solo all'università ma anche nelle scuole inferiori e agli altri livelli. Allora se non c'è un pensiero scientifico, se non c'è un metodo di pensare e supporti la scienza, come è possibile pensare il contributo della statistica, dell'economia, della linguistica, dell'interazione? Saranno sempre operazioni di sintesi, mai saranno sinergie nuove che nascono. Allora io cercherò di dire alcune cose come delle pennellate, che spero poi di poter esprimere e che poi magari possono essere oggetto di domande. Non è un caso che io abbia scritto statistica prima per rispetto alla disciplina che mi occupo di ricerca scientifica anche se andava meglio il contrario e sono solo cenni introduttivi. Sono cenni introduttivi. Allora alla fonte della ricerca c'è il problema conoscitivo, c'è una condizione di disagio che l'uomo percepisce come essere inquietante e che richieda un'attenzione particolare delle proposte di soluzione. Quella che volgarmente si chiama anche o banalmente ignoranza, cioè la differenza tra ciò che si sa e ciò che si ritiene di dover sapere per risolvere la condizione di disagio. È chiaro che questo è un problema che è trasversale a tutto la realtà empirica percepibile, dinanzi al quale l'uomo si trova, sia economia, medicina, sociologia, politologia, eccetera, eccetera. Sempre, ecco, allora ciò che viene vissuto spesso come una condizione di disagio è il vero motore che attiva quella affascinante attività che va sotto il nome di ricerca. Ecco, dietro a un problema generale, dietro a un problema, una condizione di disagio, c'è spesso un problema conoscitivo, ecco, cioè si si rende conto che qualcosa manca al nostro sapere e che il nostro sapere è alla base del nostro agire. Non è una consapevolezza acritica, è una consapevolezza acritica, cioè consapevole che questo iato, questa differenza, questo scarto è alla base di ciò che noi stiamo cercando, ciò di cui noi abbiamo bisogno. C'è un contesto operativo dinanzi al quale noi non possiamo essere indifferenti, che è rappresentato dallo stato dell'arte. Noi non siamo nell'anno zero, in ogni ambito conoscitivo. Esistono già tutta una serie nel vostro, come in sociologia, in economia, eccetera, eccetera, esistono già delle affermazioni e conoscenze consolidate. Allora capire qual è lo stato di avanzamento di certi problemi è indispensabile. Perché? Perché innanzitutto dalla ricerca degli altri possiamo avere degli stimoli su come far meglio e far di più, dagli errori degli altri possiamo imparare e possiamo anche capire due elementi fondamentali che caratterizzano ogni attività ricerca, che sono le risorse e gli ostacoli. Lo stesso Nietzsche diceva che il fascino della ricerca sarebbe nullo se non si dovesse incontrare molte difficoltà. Allora è chiaro che è importante dimensionare le risorse e gli ostacoli, sapendo che il dimensionamento non sarà mai completo, non sarà mai sufficiente, perché strada facendo avvengono delle piccoli eventi interessanti. Cioè si scopre che le difficoltà possono essere anche maggiori del previsto, ci si scopre che le risorse possono essere superiori, ma ci si accorge che l'attività di ricerca strada facendo produce tutta una serie di nuovi quesiti che mai sarebbero insorti se non si avesse fatto quell'attività di ricerca. Per questo l'attività di ricerca è una funzione performativa, non solo informativa, cioè aiuta l'uomo a capire chi è e a scoprire molto più di se stesso di quanto avrebbe fatto se non avesse avviato quell'attività. Ecco allora che l'esempio, il riferimento è la ricerca medica, perché mi sono occupato di questo, ma è trasversale. Sostanzialmente, ecco, individuare all'interno del tema di ricerca che si vuole affrontare degli obiettivi, declinarlo, in modo da individuare dei temi, degli argomenti, appunto degli obiettivi ben definibili e raggiungibili. Cioè se la percezione dell'ignoranza o della non conoscenza si traduce molto spesso in termini di slogan, perché succedono queste cose, esclamazioni di questo tipo, è indubbio che poi bisogna saperlo declinare, perché? Perché nella misura in cui noi sappiamo individuare, definire l'obiettivo conoscitivo saremo anche in grado di aggredirlo e risolverlo. Allora ecco che si attiva la ricerca, la ricerca come espressione dell'approccio scientifico. Dico subito una cosa, la scienza non dà certezze. Qualcuno lo credeva, qualcuno continua a crederlo, anche Hitler diceva, la scienza, anche la scienza mi darà ragione. La scienza non dà certezze. Adesso è in atto tutta una revisione critica dell'irrazionalità della razionalità, sulla quale non entro perché io sono uno statistico, non sono un filosofo, ma queste cose mi avvincono, mi interessano, e dinanzi al quale sempre più il procedimento non è quello di affermare, ma di non smentire. Bene, allora la ricerca è espressione dell'approccio scientifico, cioè è un processo. È un processo e l'approccio scientifico possiamo definirlo come un insieme ordinato di procedure atte a produrre informazioni. Poi vedremo un elemento che mette in luce un atteggiamento diffuso, che sono i false friends, cioè molto spesso noi utilizziamo un linguaggio per indicare alcune cose, ma ne intendono altre. Più avanti affronterò il tema del dato e dell'informazione e vedremo come ci sono dei luoghi comuni che portano a ritenere che siano la stessa cosa, ma sono cose diverse. Perché dico questo? Perché ogni volta che noi introduciamo elementi conoscitivi nuovi, introduciamo un linguaggio nuovo e il linguaggio scientifico è un linguaggio a sé, senza il quale, senza il possesso del linguaggio scientifico c'è il rischio di fraintendimenti, ad esempio anche fra ricercatori diversi. La ricerca quindi è un processo, cioè applicazione all'approccio scientifico, dell'approccio scientifico di problemi di interesse conoscitivo. Che cos'è alla fine questo processo? Se non un'investigazione di ipotesi sul modo di essere dei fenomeni osservabili. Noi osservando avanziamo delle ipotesi. C'è anche il rischio di atteggiamento passivo, che osserviamo ma non vediamo. Io porto sempre un esempio per spiegare bene questo concetto che, lo dicevo anche prima, accennavo ma ovviamente utilizzo delle slide che sono degli schemi, quindi io so cosa c'è dietro ma una volta corre il rischio di non dirlo e quindi magari passa senza raggiungere lo scopo il messaggio. Io penso sempre e spesso a Galileo Galilei, che si trovava nel Duomo di Pisa e ha visto un lampadario penzolare. Lui osservando si è accorto che c'era un evento originale, c'era qualcosa che sempre si era manifestato, sempre un corpo che pendolava dal soffitto come quel lampadario seguiva la stessa legge, ma solo lui se ne è accorto. E qual era l'impressione? Cioè lui ha avuto l'impressione che il tempo impiegato per fare un percorso lungo fosse lo stesso che impiegava il lampadario a fare un percorso corto. Allora lui ha detto ma com'è possibile? Qui c'è qualcosa che non va. Allora voi capite che lui stava osservando il reale con una fantasia, un amore per la verità che andava oltre l'apparenza. Per far questo, per far questo, occorre una cosa semplice che è l'educazione. Senza un'educazione all'osservazione, al pensiero, qualunque attività di ricerca, non porta da nessuna parte, perché non è ricerca, è gestione del corrente, è calcolo numerico, è relazione amministrativa, non è produzione di ricerca. Per questo, io ho trovato mi scontro con alcuni colleghi, quando diceva ma questa tesi, facciamo una pubblicazione, ma dove sta scritto che una tesi è un lavoro scientifico? È un prodotto scientifico. La tesi non è un prodotto scientifico, può esserlo. Einstein, otto pagine, ha dimostrato l'esistenza dei fotoni, ma il 99,9% delle nostre, delle vostre tesi, per quanto preziosi, importanti, autorevoli siano, non sono prodotti scientifici, hanno bisogno di tutta una serie di aggiustamenti, revisioni, aggiusti. Ecco, allora perché dico questo? Perché occorre una, a mio parere, occorre un'educazione, per questo è un'investigazione di ipotesi sul modo di essere del reale, del reale empirico. Quindi non è solo, è un atteggiamento e comportamento finalizzato alla scoperta di nuove conoscenze basate su riscontri, segni oggettivi. Questa investigazione, che non è solo osservazione passiva, ma attiva, aspettandosi qualcosa, è sistematica, critica, controllata, empirica. Questi quattro termini, ciascuno di questi dice qualcosa, allora sistematica, vuol dire rispetto a una sequenza logica di fasi compatibili con le azioni di ricerca, critica, senza pregiudizi, senza approccio ideologico, l'ideologia nega la realtà, l'ideologia da per scontato certe cose al netto della realtà, quindi l'investigazione deve essere critica, quindi senza pregiudizi, senza aspettarsi di aprire risultati, controllata, quindi soggetta a vincoli per ridurre gli effetti di pregiudizi e di fattori di disturbo, che sempre ci sono. Noi modellizziamo la realtà quando cerchiamo di studiarla, noi costruiamo un modello della realtà, ma è molto difficile che questo modello corrisponda a verità e qualora non risponda, lo dico perché molti, non tutti la pensano così, è il modello che è sbagliato, non è la realtà che è illeggibile. Recentemente sono venuto a conoscenza che è un'ipotesi di superare i clinical trial, sperimentazioni cliniche su pazienti, passa attraverso la simulazione su, ma simulazione, su 2400 variabili, cioè il corpo dell'uomo, la salute dell'uomo, è sintetizzata, diciamo, espressa da 2400 variabili. Non so se ci rendiamo conto cosa vuol dire 2400 variabili. E comunque risulta insufficiente, risulta insufficiente perché si è visto che comunque non si arriva a una simulazione. Allora questo per dire come ci sono fattori di disturbo incontrollabili e incontrollati e nell'attività di ricerca devono essere tenuti sotto controllo. Questa è una statistica da un grosso contributo. e poi la ricerca come un processo basato sull'investigazione empirica, basata su segni evidenti, percepibili. Se vado troppo veloce, ditemelo. Quali sono le componenti logiche ed operative del processo di ricerca? Una volta definito, una volta individuato il problema conoscitivo, si tratta di declinarlo in uno o più obiettivi conoscitivi che è un quesito, una domanda di fenomeni variabili di specifico interesse medico, epidemiologico, sociale, eccetera, eccetera, a cui si intende dare una risposta mediante una specificazione di ricerca. Questo è l'obiettivo. Alla base di questo quesito c'è un'indicazione, c'è un elemento che descrive l'affermazione, poi vedremo con alcuni esempi meglio, l'affermazione che si intende verificare empiricamente. All'interno di questo quesito, questo quesito si può classificare secondo certi criteri, per meglio definirlo. sempre, sempre, innanzi alla realtà è importante saperla classificare e poi anche sintetizzare. Leggevo recentemente che la capacità di classificare, sintetizzare, comunicare sono i tre skills più importanti, rilevanti nelle attività professionali del futuro. Sorprendente questo, ma la capacità di classificare è un problema. Allora classificarlo come? Poi vedremo attraverso una fase che si chiama di astrazione, dove la contributa statistica è molto forte e vedremo poi nel dettaglio in cosa consiste. Un piano di ricerca e un piano di indagine. Sono due contributi distinti, il piano di ricerca e il piano di indagine. Uno riguarda le strategie osservazionali, come osservare il fenomeno, uno come misurare il fenomeno. Vi faccio un esempio brevemente e poi lo riprenderò. È chiaro che se io voglio sapere quanti di voi sono residenti qui a Padova o meno, è sufficiente che io lo chieda alzate la mano o meno. Se io voglio studiare una relazione di causalità, una relazione per cui il voto medio e il lauree è ricente della distanza dall'abitazione di nascita, dalla località di nascita, è chiaro che io voglio studiare una relazione dove c'è una causa possibile, probabile, è un effetto. Allora a quel punto la sequenzialità temporale è un vincolo importante. È chiaro che poi ci sono problemi per i quali io dovrò tener conto che alcune domande non posso farle impunemente. Io posso chiedervi chi di voi risiede a Padova e probabilmente nessuno di voi si rifiuterà di rispondere. Ma io non posso chiedervi tranquillamente, impunemente, davanti a tutti, chi di voi si droga o cosa avete votato alle ultime elezioni o se in famiglia negli Stati Uniti è una delle domande soggette a particolare privacy, legge della privacy, se in famiglia avete persone ammalate. Ecco allora voi capite che c'è un problema anche di tecnica. È chiaro che se voi, voi, sì, è chiaro che se alcune persone devono subire dei trattamenti, delle cure, delle terapie e magari fanno ricorso a sostanze a stupefacenti, tossiche, è chiaro che devono dirlo. Lo devono dire. Ma in una ricerca, in un'indagine statistica non sono tenuti ovviamente a dirlo, come uno non è tenuto a dire cosa ha votato oppure non è tenuto a dire altre cose che lo riguardino. Ma è chiaro che anche in quel caso c'è un modo, bisogna tener conto, di di come si chiedono, come si fanno alcune domande. Io, io, non io, ma ci sono delle tecniche che permettono di sapere quanti fra di voi ricorrono a sostanze supefacenti senza chiederlo direttamente. Ecco allora che ci sono delle tecniche e ci sono dei metodi. La tecnica è la risposta operativa contingente contingente che affronta specifici problemi. Il metodo è l'approccio che tiene conto della natura del problema. È un po' la differenza che c'è tra scienza e arte. La ricerca scientifica rappresenta la risposta razionale finora più avanzata, finora più avanzata, per produrre, dare risposte a problemi conoscitivi empirici. Che cos'è la ricerca scientifica? Non è altro che un processo che affronta problemi conoscitivi sulla base dell'evidenza empiriche prodotte dall'osservazione. Cerca di dare risposte utili all'uomo attraverso i fondamenti delle scienze. Per questo sono importanti le scienze, perché le scienze rappresentano un'organizzazione del sapere razionale, razionalizzato. Quando si dice il buon senso, voi non vi rendete conto, ma molte cose che, se spiegate, avreste difficoltà a capire, le capite normalmente, normalmente, perché? Perché rispondono a un approccio razionale a cui l'uomo è in grado di dare, riconoscersi. L'uomo si riconosce nell'approccio razionale, non spiega tutto, sicuramente non spiega tutto l'approccio razionale. Coloro che dicono che l'approccio razionale spiega tutto, state attenti, ma questa mia Opper direbbe che attraverso affermazioni sulla realtà da considerarsi vere finché non saranno smentite da altre evidenze. Quindi la ricerca scientifica non è solo un comportamento, una somma aritmetica di operazioni sequenziali, ma è un atteggiamento, un modo di porsi in alzio al problema e è basato su segni oggettivi. Qui mi voglio dire due parole in più. Ogni fenomeno per essere oggettivo deve essere misurabile. Che cosa vuol dire misurare? vuol dire associare a una sua manifestazione una modalità secondo una metrica. Allora è sempre possibile questo? Non sempre. La paura come si misura? La ricchezza? Il conto in banca si misura facilmente. ma la ricchezza? La proprietà linguistica? Il disagio? Il benessere? È chiaro che però se io non misuro non descrivo, cioè non attribuisco delle dimensioni al fenomeno. Se non descrivo non posso analizzare, se non posso analizzare non posso capire, se non capisco non posso procedere per migliorare. Quindi è importante, tant'è vero che nel saggiatore Galileo Galilei diceva rendere misurabile ciò che non è misurabile e dice tutta la creazione utilizza il linguaggio geometrico lui diceva. Einstein diceva bisogna non fare non vale solo ciò che conta cioè si arriva a contare a conteggiare ma fare in modo di contare anche ciò che non vale. Perché? Perché nella misura in cui noi riusciamo a introdurre una metrica un criterio di misurare quindi di assegnare una modalità confrontabile noi riusciamo a capire molto del fenomeno. Mi sto spiegando? Ciò significa che le ipotesi nascono sono frutto le ipotesi di un'osservazione fatta con fantasia non con intelligenza ma con amore per la verità diceva Nero Wolf diceva non so se un investigatore diceva ma il dubbio il mistero è un appuntamento con la verità. Allora voglio dire è importante sapere che c'è un momento che laddove c'è qualcosa che non comprendiamo c'è qualcosa che ci sta aspettando e aspettando per noi. Allora non solo e desideri non solo dall'intelligenza nulla toglie che l'avvio sia quello dell'intuizione dell'intuizione che nasce dall'osservazione ed esprime in maniera anche irrazionale anche irrazionale un bisogno presente in ogni uomo derivare la verità su di sé sugli altri sul mondo sulla vita cioè alla base alla base dei bisogni di conoscenza sostantivo lingue medicina sociologia c'è un bisogno che va oltre c'è un'aspettativa l'uomo ha un'aspettativa che va oltre questo per dire che nell'approccio dello sviluppo e produzione di conoscenze non bastano solo i segni oggettivi non basta solo l'evidenza empirica ma occorre quello che dicevo prima cioè un'educazione allora un mio amico diceva sempre la differenza tra pellegrino e vagabondo qual è? è l'educazione ecco l'approccio scientifico si caratterizza caratterizza il procedere di colui che fa ricerca dello scienziato da ricercatore nella loro attività di produzione di nuove conoscenze e deve essere inserito in un processo dinamico in un processo che tenga conto dei bisogni di partenza in ogni caso la scienza non rappresentano certezze ma sono affermazioni diversamente argomentate non tutte le affermazioni scientifiche sono ugualmente argomentate sono ugualmente attendibili il mondo è pieno di spazzatura i giornali è pieno di spazzatura e il problema più serio cari giovani è che è molto difficile distinguere è molto difficile distinguere allora un esempio la statistica il contributo della statistica è importante nello studio di popolazioni e si esprime mediante affermazioni puntuali ma non univoche cioè quando noi diciamo che il prodotto interno pro capito italiano nel 2016 era di 27.700 euro 27.700 euro è una formazione puntuale ma non univoca perché a Bolzano si arriva al 50% in più e invece in Calabria 10.000 in meno 10.500 in meno allora non tutti gli italiani hanno il reddito neppure a Bolzano neppure in Calabria allora quando io faccio un'affermazione è una formazione puntuale quando io dico questo farmaco risolvi questo problema eh e faccio un'affermazione puntuale ma la domanda è un'altra le domande permettetemi l'esempio da punto di vista scientifico due sono le domande uno è per questo io ho il signor Rossi che ha questa malattia qual è il farmaco migliore altra domanda è per questa malattia che cosa mi dice la ricerca scientifica qual è la soluzione migliore sono due domande diverse che coinvolgono un ambito che va sotto il nome di etica su quale varrebbe la pena riflettere ma vi assicuro non tocco questo tema l'ho affrontato in un seminario dottorandi di programmazione sanitaria l'altro giorno e penso che sia importante va bene non so come sono con i tempi eventualmente andassi sforandomi ecco vado avanti allora il problema dicevo anche prima lo riprendo perché adesso cercherò di declinarlo meglio il problema conoscitivo si declina con una molteplicità di obiettivi conoscitivi uno dice ma una domanda che si può porre non so se voi sapete ma non si sa come avviene l'infarto non si sa perché avviene l'infarto allora allora è chiaro che si cerca di individuare tutta una serie di sotto aspetti del problema in modo a poterlo aggredire è chiaro che la sua individuazione l'obiettivo conoscitivo trova nelle fasi precedenti alcune risposte ma vediamo anche adesso meglio entriamo un po' su questo tema che secondo me su quale la statistica può dare un grosso contributo e che è un tema trasversale all'attività di ricerca allora qual è vediamo un po' alcune distinzioni vado un po' veloce su questo sulla base del quesito livello conoscitivo i contenuti e la formulazione del quesito i quesiti le domande che si pongono nell'attività di ricerca si dividono in tre grandi categorie in tre grandi categorie macro categorie la prima è che può rispondere alla domanda quanto la seconda come la terza perché faccio un esempio se io chiedo quanti di voi fumano allora se su quindici alzate la mano in otto io dico questo è un approccio esplorativo innanzi al quale io non ho nessuna concettualizzazione del problema e non ho nessuna formalizzazione del fenomeno in studio e in qualche modo affronta un problema un fenomeno alla volta e si limita a una sua prima definizione altra domanda è ma il fumo dipende dal corso di laurea che uno frequenta dagli studi che fa qui la domanda è come cioè come si comporta il fumo in funzione degli studi che uno fa qui si studia una relazione guardate le relazioni non si vedono ma ci sono e sono una realtà nascosta che bisogna sapere individuare con un'attenzione che ogni manifestazione dell'uomo è espressione di una complessità e quindi non c'è mai una sola causa un solo effetto ma ci sono molte cause alcune sono con cause cause concomitanti e così via e altri sono l'effetto poi ci sono effetti più importanti effetti meno importanti il fumo sicuramente è una causa importante per malattie cardiocircolatorie non è l'unica non produce solo quel danno ma ecco allora è chiaro che lo studio di relazioni in particolar modo le relazioni di causalità cioè quelle relazioni per cui noi individuiamo una più cause e ci poniamo al problema di una più effetti a differenza delle cause a differenza delle relazioni di causalità spuria cioè cosa vuol dire che negli Stati Uniti d'America il quartiere Brunkling avevano scoperto che all'aumentare il numero di installazioni di cabine telefoniche aumentava la delinquenza minorile anno per anno ma il problema è bisogna trovare una sua razio alla cosa il fatto che ci sia un'associazione quantitativa non è garanzia che ci sia una relazione di causa effetto ci siamo che il fumo faccia male ai polmoni questo è documentabile dai tossicologi quali dicono il catrame eccetera eccetera alveoli ma come spiegare questo o c'è una spiegazione razionale sostantiva spiegata dai sociologi criminologi che so io altrimenti è chiaro che è una semplice affermazione mi permetto una nota l'alternativa agli studi di causalità sono gli studi di casualità sarebbe interessante discutere su questo che cos'è il caso che cos'è il caso si può chiedere chi di voi sa darmi una definizione di caso allora do una definizione un po' rigida formale ma è l'evento certo di causa ignota ignota non inesistente ragazzi eh cioè sia chiaro che è ignota non inesistente perché la professoressa Musacchi e Busai sottoscritto altri colleghi sono qui che non conosco dovremmo cambiare lavoro se credessimo che il caso esiste nel senso che non esistono le cause esiste l'incapacità dell'uomo di scoprire le cause no che non esistono le cause se io trovo 20 euro pensavo se io trovo 20 euro per terra io porto sempre questo esempio uno dice fortuna mi dispiace perché li ha persi non so come mai sono là ma è un evento certo la causalità invece qui ci sono una divaricazione ci sono due linee una è causa evento certo la causa certa pensate alle malattie infettive evento certo la causa probabile malattie cronico degenerative uno ha avuto l'infarto la causa quale può essere aver fumato molto un approccio probabilistico ci siamo quindi qui siamo in presenza di pesare le cause ognuno può aver dato e ovviamente l'integrazione fra le cause va bene è chiaro che la terza domanda perché è la più impegnativa perché se io arrivo a dire ma il farmaco A è migliore del farmaco B la lezione di distanza produce un rendimento finale di studenti inferiore la distanza di didattica frontale questa ecco la conclusione io quando vedo i risultati delle prestazioni di esami so spiegare perché c'è quella differenza dico perché hanno seguito didattica frontale scusate o didattica a distanza quindi e che richiede un approccio una procedura sperimentale basata sulla sperimentazione che secondo me è uno degli aspetti più affascinanti nella realtà della ricerca ma anche più impegnativa perché richiede tutta una serie di problemi di attenzione pensate alla ricerca clinica dove i vincoli sono che il ricercatore ha un'ampia quasi totale autonomia che individua lui il fattore o agente esterno da somministrare farmaco che individua lui le modalità del farmaco i diversi livelli i cipienti eccetera le molecole che seleziona la popolazione seleziona i campioni sceglie casualmente i campioni a cui assegnare le diverse modalità e decide lui come e quando misurare gli effetti o l'effetto vi capite che c'è una autonomia ampissima sarebbe come che agli studenti che si iscrivono al primo corso di laurea si dice bene adesso facciamo una selezione 50% di voi segue didattica a distanza 50% didattica frontale uno dice ma scusa io ho pagato le tasse ho diritto a avere tutto il servizio migliore capite? cioè voglio dire non è così semplice immaginate voi per questo ci sono le procedure come il il consenso informato eccetera eccetera è chiaro che è importante il linguaggio è importante la formalizzazione è importante la fase in cui si ragiona sugli obiettivi conoscitivi perché gli obiettivi da perseguire conoscitivi da definire perché perché è possibile è ragionevole che ci sia un obiettivo ideale uno vorrebbe scoprire tutto vorrebbe scoprire il top vorrebbe dare risposte se voi andate a vedere i giovani ricercatori o i ricercatori che sono dei premi in campo economico in campo clinico dove le attività di ricerca empirica si fanno più forti l'uomo della strada non sa leggere i benefici di quelle ricerche perché sono molto specialistiche d'altro canto non potrebbero essere diversamente poi i giornali possono dire trovate sistemi a curare i tumori ma non è vero d'altro canto la gente capisce questo non capisce non capisce diversamente allora c'è un problema di linguaggio per cui al di là dell'obiettivo ideale c'è un obiettivo definito che nella migliore ipotesi corrisponde all'obiettivo realizzato io ho risposto alla domanda che mi ero posto all'inizio è chiaro che la divergenza tra obiettivo ideale e obiettivo definito esprime l'adeguatezza della mia attività di ricerca che la distanza che c'è tra l'obiettivo definito e quello realizzato si esprime con l'accuratezza e alla fine il mio lavoro ha un suo grado di attendibilità di attendibilità che può essere misurato e che deve essere tenuto in considerazione e che risulta dalla serie di difficoltà che sono incontrate strada facendo nel momento in cui abbiamo progettato l'intervento la ricerca e siamo arrivati a conclusione quali sono le componenti dell'obiettivo conoscitivo la classificazione è alla base della definizione questa operazione è un'operazione che si fa a livello di equip di ricercatori sostantivi metodologi è una è una attività un lavoro di equip di equip molto importante e che si conclude deve portare come conclusione alla costituzione di un protocollo procedura di rilevazione quello che in altri termini è chiamato questionario fare un questionario signori non è facile fare un questionario non è facile occorre ricercatori sostantivi cioè quelli che si occupano del tema specifico metodologi gente che perché fare un questionario ha dei vincoli formali importanti ha delle che sono strutturali poi come porre certe domande per cui sono andato un po' avanti le componenti fondamentali sono tre l'unità statistica elementare di osservazione la popolazione o aggregato l'insieme e l'unità a cui si intende riferire i risultati una volta finita l'indagine questo è importante e le variabili o le caratteristiche di specifico interesse per la ricerca devono presentarsi almeno secondo due modalità maschio o femmina ecco una volta non ha senso rilevare il sesso nelle forze armate italiane tutti uomini queste tre dimensioni unità statistica popolazione e variabili meritano tutte di soffermarsi un po' perché perché non sono così scontate se io guardate ad esempio questa definizione di unità statistica della famiglia il censimento nell'81 e vent'anni dopo nell'81 la famiglia è un gruppo di persone legate da vincoli di matrimonio parentela affinità coabitanti da venti dimora abituali nello stesso comune che normalmente provvedono al soddisfacimento ai loro bisogni mediante la messa in comune di tutto parte reddito dal lavoro essi percepito vent'anni dopo è un insieme di persone che hanno la loro dimora abituale non c'è più il termine matrimonio rispetto alla definizione precedente nella stessa abitazione del capo famiglia della famiglia anagrafica che ha con tale persona una relazione di affinità parentela affettività o amicizia scompare il vincolo economico allora voi capite vi faccio vedere un altro esempio chi è il fumatore? chi è il fumatore? no ma guardate un'altra definizione nato morto l'ONU definisce nato morto un bimbo dopo 28 settimane 196 giorni di gestazione in Italia si parla di 180 giorni allora se un bambino nasce pensate che in paesi d'Italia e Francia due donne aspettano un bambino e al 190 entrambi lo perdono per l'italiana è un nato morto per gli Stati Uniti per la Francia è un aborto quindi voi capite che quando io dico dove è la mortalità più alta nato in mortalità o abortività non posso fare il confronto popolazione la popolazione può essere finita o potenzialmente infinita gli iscritti a questo corso di laurea è una popolazione finita intesa finita non solo perché è un numero finito reale ma naturale più che reale perché so dove sono chi sono e quanti sono i tifosi del Milan è una popolazione infinita non perché sono infiniti ma perché noi sappiamo dove sono chi sono e quanti sono quelli che stanno a parlare un po' d'inglese non si sa quanti sono è una popolazione potenzialmente infinita allora voi capite che ad esempio un risvolto un risvolto è che sono in un corso di laurea e posso decidere di fare un'indagine campionaria o sulla popolazione posso fare un campione anche se non ho pochi posso fare un campione oppure su tutti sui tifosi del Milan devo fare per forza un campione perché non so quanti sono e quindi selezionò secondo certi criteri non solo ma pensate se io devo fare certe ricerche particolari penso sempre a persone che fanno abuso di sostanze che portano a tossicodipendenza beh io voglio fare uno studio su di loro io una volta sul progetto commissione europea ho coordinato l'aspetto statistico su una ricerca presso le prostitute in dieci paesi europei prostitute di colore che erano in Europa non esiste una lista come si fa andare a chiedere a contattare no? allora è chiaro che uno vuole fare uno studio su un particolare problema la tossicodipendenza dei giovani ma questa è la popolazione obiettivo ma c'è una popolazione che è raggiungibile ad esempio coloro che si fanno assistere presso i servizi di recupero tossicodipendente delle asle quella è una popolazione accessibile ma non è detto che tutti collaborino quindi io alla fine mi troverò una popolazione effettivamente raggiunta che può divergere dalla popolazione obiettivo e la divergenza che io realizzo è tale per cui può intaccare quell'affidabilità di cui parlavo all'inizio sull'obiettivo la variabile variabile sono i fenomeni le caratteristiche coerenti e pertinenti al problema di studio e che sulle quali io voglio che voglio rilevare cioè accertare e annotare accertare e annotare per avere informazioni qui è un problema perché non dovrei mai dimenticare che ogni informazione ogni dato che viene rilevato ha un suo costo non necessariamente economico ma anche di stress uno non può stare mezz'ora al telefono non può subire un'intervista di tre quarti d'ora e quindi poi le domande sono poste in modo compatibile all'intervistato e alcune domande sono impegnative allora ecco che c'è la domanda la variabile astratta l'argomento che io voglio chiedere su quale voglio chiedere poi c'è la variabile operativa cioè come io chiedo come io faccio la domanda uno dice voglio sapere l'abitudine al fumo se fumano allora io posso porre la domanda lei fumatore sì o no oppure lei è fumatore non fumatore o ex fumatore oppure lei quante sigarette fuma in media al giorno zero uno due tre mi dicono sostanzialmente non è proprio così ma la stessa cosa non è proprio così ma sono domande diverse ci siamo? allora io devo saper porre la domanda e sapere che questo ha un impatto psicologico nei confronti della persona che sto intervistando perché qualsiasi questionario è prima di tutto un impegno psicologico prima di un impegno informativo pensate adesso non ho con me alcuni esempi ma alcune domande ai imbuto allora con riferimento allora un esempio io non posso dire ormai al cinema questa è una domanda formulata molto male con riferimento agli ultimi sei mesi è messata a un cinema a pagamento sì no il film che ha visto ne ha visto uno più di uno con riferimento all'ultimo allora voi capite che c'è un percorso logico che deve essere seguito che uno dice beh insomma ragazzi per quello che mi danno in cambio non so se vale la pena che risponda a tutte queste domande quindi è chiaro che le variabili c'è una dimensione astratta che è espressione dell'interesse che io ho per quella ricerca che esprimono una dimensione ma c'è anche la dimensione operativa per la quale viene richiesta una competenza particolare nella formulazione le variabili si dividono in due grandi categorie variabile qualitativa e quantitativa le variabili quantitative si esprimono attraverso delle quantità che possono essere anche dei numeri ma non tutti i numeri sono quantità voi tutti avete un numero possedete un numero che non è una quantità il numero di cellulare non è una quantità perché se fosse una quantità soddisfacerebbe alle condizioni delle quantità allora voi tre fate la somma di vostri tre numeri cellulari dividete per tre se viene fuori un numero dispari con la virgola sicuramente non è un numero telefonico difficilmente è un numero telefonico perché le prime tre cifre individuano la compagnia la rete e non sono conseguenziali l'uno con l'altro non esprimono quantità ma sono dei codici allora voi capite che è importante capire cogliere la metrica la metrica se io utilizzo le variabili qualitative nominali conoscenza delle lingue che può essere anche ordinale poco insufficiente sufficiente buono ottimo e così via oppure con numeri certo che non è facile il numero come espressione di quantità arriva tardi nel pensiero dell'uomo se voi andate a vedere i graffiti di 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 caverne dove hanno fatto scoperte geologiche scoperte interessanti vedete che per la rappresentare un'moltitudine di animali una mandria veniva utilizzato un animale grande solo molti millenni dopo l'uomo ha capito che per indicare una mandria potrebbe utilizzare più unità elementari il concetto è il numero è un concetto che arriva tardi e sapete qual è la scienza più antica del mondo la scienza più antica del mondo è la geometria che misura le distanze questo è indicare come dimensionare dimensionare comporta definire distanze allora fra le variabili qualitative espresse da un attributo una è nata a Vicenza e una è nata a Padova io posso dire che io sono nato nella stessa città o sono nato in città diverse non posso stabilire nessuna relazione d'ordine se una laurea triennale e una magistrale posso costruire un ordinamento universalmente accettato se uno prende 30 un esame uno prende 15 scusate per esempio ma insomma 15 in letteratura inglese non lo so cosa insegna ecco sponiamo ecco inglese beh lei sicuramente lei ha preso un voto superiore ha preso 15 voti in più ma la sua preparazione non è il doppio della sua siete d'accordo? se invece loro due una a 10 euro non è a 30 in tasca no? è chiaro che lei è più ricca la professione Sambusacchi è più ricca ha 20 euro in più non solo ha una ricchezza triple io posso fare un confronto basato sul rapporto cioè il rapporto mi fornisce informazioni nel vostro caso il rapporto non mi fornisce informazioni non è informativo io non posso dire che lei sa l'inglese in modo doppio mi sto spiegando? allora voi capite che il magico mondo delle metriche è più informativo di quanto possiamo immaginare ma non tanto per la non tanto dal valore in sé ma quanto dalla relazione fra ecco allora la statistica la fase che abbiamo visto prima di astrazione unità statistica popolazione variabili è la fase di astrazione che si conclude con la formazione di un questionario che parte alla rilevazione accertamento e annotazione dei messaggi individuali delle risposte la statistica si occupa di dato e informazioni i due termini vengono confusi per questo a conclusione mi sto avviando abbiate ancora pazienza poco alla conclusione c'è una differenza importante tra dato e informazione per capirla meglio dirò alcune cose molto elementari sulla statistica la statistica si basa è la scienza che si occupa dello studio della variabilità dei fenomeni empirici la variabilità è il vero è il vero anima e coscienza della creazione non si ha idea qual è il fascino della variabilità a me piace la statistica perché studia la variabilità non perché studia le medie e ogni fenomeno ha questa sua dimensione che ne individua la originalità allora cogliere la sistematicità nella variabilità è compito la statistica perché questo perché la variabilità è elemento di incertezza perché nelle scuole inferiori nelle elementari non si studia la variabilità mentre tutti noi siamo stati formati un approccio deterministico perché il concetto della variabilità è molto impegnativo è molto difficile da assimilare da capire non esiste la variabilità negativa ad esempio allora fenomeni empirici si esprimono attraverso una consistenza percepibile ai sensi statura peso voto di laurea voto di diploma eccetera ma la loro originalità e potenzialità informativa risiede nella loro attitudine di assumere dimensioni valori modalità diverse l'osservazione questo la variabilità ha introdotto un altro concetto importante che è l'incertezza è l'incertezza incertezza il dubbio l'incertezza dice a Seneca se vuole ecco avevo già finito erano andate troppo forte troppo veloce il dubbio l'incertezza dice a Seneca aprono all'uomo le vie dell'infinito e dello spirito per dire che l'incertezza è alla base della vitalità della ricerca della conoscenza e il dato è perché si deve studiare e come si studia la variabilità che caratteristica ha la variabilità allora per cogliere la valenza della variabilità noi dobbiamo entrare nella logica dei processi decisionali sempre noi operiamo in contesti decisionali facciamo delle scelte e sono si definiscono tali perché operano in condizioni di incertezza stamattina esco mi porto l'ombrello non me lo porto noi operiamo sempre in condizioni di incertezza che cosa può aiutarci nell'incertezza tutto ciò che riduce l'incertezza l'informazione è lo strumento che riduce l'incertezza generalmente non la annulla ma la riduce e tanto più noi riusciamo a ridurla tanto più riusciamo a operare in un contesto di parziale certezza ecco allora che l'informazione è un messaggio di valore che altera riduce l'incertezza nel processo decisionale il dato è un messaggio elementare è un segnale elementare non tutti i dati sono in formazione ma nessuna formazione si può fare senza i dati faccio sempre un esempio a lezione allora supponete lei da appuntamento a una ragazza dice ci vediamo in fondo a viale l'oredà dove c'è il semaforo dove c'è esponiamo e così ecco aspetta le 17 c'è un semaforo quel semaforo cambia colore giallo rosso verde per lei che aspetta quelli sono dati che non hanno nessun valore aggiunto per gli automobilisti sì il fatto che lei sia là e ogni tanto guardi l'orologio agli automobilisti e al semaforo non gli può interessare di meno sono dati sono messaggi uno per l'altro sono dati gli unici messaggi le uniche informazioni è il tempo che passa e per gli automobilisti il colore del semaforo ci siamo allora al di fuori di un processo decisionale non ha senso parlare di informazioni ha senso parlare di dati di messaggi allora il dato è la materia prima del processo di produzione di informazioni è un messaggio codificabile con il valore potenziale diventare strumento decisionale l'informazione nei processi di scelta fra ipotesi alternative e condotti in condizioni di incertezza si parla anche di dato alimentare che si riferisce al singolo carattere o dimensione osservato va bene ci sono una serie di definizioni tra dato e informazioni che rientrano in letteratura per chi lumentale è tra quelli che più si è occupato e che si temi e di fatto c'è una differenza importantissima centrale tra dato e informazione che resta appunto il valore informativo decisionale l'entropia decisionale cioè la capacità di ridurre l'incertezza in un processo decisionale ecco quindi è chiaro che la statistica è la scienza che attraverso i dati produce informazioni ma qual è il valore aggiunto della statistica il valore aggiunto della statistica è che tiene conto della variabilità quindi da risposta relativamente all'incertezza brevemente ultima slide sinteticamente qual è il ruolo della statistica in funzione dell'attività ricerca qual è il contributo non non unico la statistica da sola non risponde a nessuna non dà risposte a nessuna domanda scientifica se non quella di metodologia statistica ma anche la avrei dei dubbi come ormai neanche la sociologia da sola può spiegare come l'economia mi permetto qui di ricordare una battuta che presumibilmente nella quale presumibilmente c'era la consapevolezza della dell'acutezza molto più di quanto qualcuno ha pensato della regina Elisabetta d'Inghilterra quando è andata alla London School of Economy e ha detto ma signori voi che siete i massimi esperti mondiali di economia come mai non avete previsto questa crisi economica questo per dire che l'economia non spiega tutti i problemi economici la finanza non spiega tutti i problemi economici e così via perché perché c'è una componente fondamentale in tutti che è rappresentata l'incertezza la statistica su questo è trasversale nella definizione degli obiettivi conoscitivi la statistica ha un suo contributo pensate quando noi vogliamo dimostrare semplicemente che un intervento didattico è migliore dell'altro cosa vuol dire migliore definirlo declinarlo usare un linguaggio empirico quindi cogliere la dimensione quantitativa attraverso i parametri una percentuale una media le variabili la costruzione definire operativamente le variabili come definirle cosa scelgo io fuma sì no fumatore non fumatore ex fumatore quante sigarette fuma sapere che le domande dai dati che raccolti io posso elaborare in certo modo anziché un altro il piano della ricerca tenere conto fondamentalmente la variabile tempo non tenerla conto osservare nel tempo piuttosto che fare una sperimentazione nella rilevazione del dato la tecnica di rilevazione sapere che l'indagine postale telematica faccia a faccia hanno potenzialità limite diversi a seconda del problema l'elaborazione e interpretazione dei dati scegliere gli indicatori giusti ma saperli anche interpretare il problema non è far calcoli la statistica non è calcolo numerico ma fornisce gli indicatori adeguati ai problemi e aiuta a capire cosa significa quando io dico la media anziché la media scusate sono due indicatori tra i più elementari devo sapere che uno studia fenomeni simmetrici e uno è portato per fenomeni asimmetrici cosa vuol dire simmetrico o non simmetrico è un'altra cosa allora le potenzialità degli indicatori altrimenti siamo dei mio maestro diceva dei praticoni cioè gente che fa calcoli che butta dentro i dati nel computer e tira fuori quello che il computer gli sa dire comunicazione dei risultati altrettanto importante come pubblicare i risultati utilizzare linguaggio del destinatario non linguaggio tecnico parlare linguaggio del destinatario la scelta dei grafici piuttosto che tabelle piuttosto che indicatori piuttosto che espressioni numeriche e altre eccetera la scelta delle modalità di comunicazione ecco tutto questo la statistica da dei contributi da sola non risolve ma senza la statistica tutti gli studi che affrontano temi su popolazioni non studio di casi eh di popolazioni ecco la statistica dà un suo contributo è chiaro che il contributo della statistica come delle altre scienze hard sciences vengono chiamate ma fondamentalmente tutte le scienze tutti quelli saperi organizzati che si raccolgono attraverso discipline non potranno mai dare qualcosa di significativamente interessante rilevante alla conoscenza dell'uomo se prima non c'è un'educazione al pensiero scientifico ringrazio per l'attenzione a concludere grazie